A Chieti si torna a scuola domani, la giornata di sole ha un po' reso meno pesante il freddo intenso di queste ore. Si torna a scuola e anche l'università riapre le sue porte agli studenti. Intanto sulla situazione delle strade e di tutto quello che è accaduto dopo la nevecata abbiamo sentito l'assessore lavori pubblici Raffaele De Felice. Diciamo che è tutto positivo, non abbiamo avuto eventi franosi come lo scorso anno, ci sono delle presenze di buche nella parte bassa della città ma la cosa dovrebbe essere risolta in tempi brevissimi col programma di due rete gas che ci garantirà il rifacimento degli asfalti dalla stazione a Madone delle Piane. E' chiaro che il freddo è il problema più importante emergenziale che sta venendo fuori. Abbiamo altifuori di quello che è la percorrenza normale del piano neve, delle situazioni emergenziali e invitiamo la cittadinanza che si dovesse trovare in questi luoghi a essere attenta, a caso mai a non uscire ed aspettare l'intervento di salatura che stiamo cercando di programmare per l'intera città. Ha funzionato anche la collaborazione tra le istituzioni? Sì, il COV ha funzionato, programmato, è stato puntualissimo nell'indicarci i momenti di criticità che avremmo incontrato e da questo punto di vista possiamo dire che ha funzionato tutto. Ha funzionato anche la chiusura di tutto il sistema viario al grosso traffico pesante. Quindi diciamo che c'è stato questo lavoro di gruppo, definiamolo di gruppo.